... Dove guardate? Cosa? Dove guardavate? Un po' te, un po' là. Questo è il nostro aereo. 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 Grazie a tutti. Buonasera. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Saremo a 30 metri, 20, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo. Saremo a 30 metri, 2, 1, ci siamo. Saremo a 30 metri, 2, 1, ci siamo. Per favore non dimenticare a bordo nessun oggetto personale. A nome del comandante Luna ci congediamo da tutti sperando che il volo sia stato di vostro grandimento e di rivedervi nuovamente a bordo. La liberia, forse è un piano, non ricordi quello dell'Iberia? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.